Si sono concluse le riprese di The Cage, la prima serie web prodotta ad Ancona da Guasco SRL, un cast interamente di giovani e diverse le aziende coinvolte in un'efficace sinergia, realizzata attraverso il product placement tra cinema e privati. Rama Pollini nella parte del cattivo. Già dalla prima puntata viene fuori tutto questo aspetto, perché c'è già una colluttazione con un extracomunitario, quindi è subito abbastanza forte la descrizione del personaggio. La storia parte da una vicenda drammatica, uno stupro. È la storia di un'Ancona invisibile dove un gruppo di amici decide di farsi giustizia da sé. Il regista Luca Recchi. Queste sono storie, queste come altre, che non accadono solamente a Roma, con la passeggiata a Castel Sant'Angelo. E questa è una cosa per la quale io rigetto. Ancona è una città dove queste storie accadono, come in ogni altra città. Per gli anconetani sarà la loro Ancona, per gli altri sarà la propria città, perché chiaramente manca di simboli come Colosseo per Roma che vanno ad identificarlo. Quindi Ancona come la città di tutti, di tutti gli italiani, di tutti gli spettatori. Ne parleremo in maniera più approfondita con alcune scene dal film e il backstage domenica nel magazine 7x4 in onda su TV Centromarche alle 15 e alle 23 e 45.